Ciao, buongiorno e ben ritrovate. Ad aprile sono iniziate le riprese del documentario di Harvest sulle comunità SIC impiegate nell'agropontino come braccianti agricoli, spesso al centro di episodi di sfruttamento e di caporalato, spesso denunciate dalle associazioni che lavorano su quel territorio. Abbiamo detto riprese iniziate ad aprile, riprese che possono essere finanziate attraverso il crowdfunding, ovvero ognuno di noi può diventare coproduttore di questo documentario. Ne parliamo con il regista di Harvest che è ospite con noi in studio, Andrea Paco Mariani, buongiorno, regista e fa parte del team creativo di SMH Video Factory che ha sede qua a Bologna. Allora abbiamo detto un documentario che può essere finanziato da chiunque, insomma chiunque può diventare coproduttore attraverso questa piattaforma di crowdfunding che si chiama Produzioni dal Basso. Sì esatto, noi in questi anni abbiamo realizzato diversi film e documentari, tutti attraverso crowdfunding e tutti attraverso la piattaforma di Produzioni dal Basso. Noi ci siamo sempre riconosciuti in questo modello di sostenibilità e per tante ragioni, una su tutte, il fatto che ci permette attraverso questa rete di persone, associazioni e realtà che si aggregano al progetto, non solo di mantenere un grado di indipendenza sul modo in cui racconti la storia, ma di creare anche una comunità che si unisce nell'intento di raccontarla. Nel senso che la cosa molto importante, oltre all'aspetto della sostenibilità che è importante anche esso, è il fatto che con i coproduttori si sviluppa una relazione che non è semplicemente economica, ma attraverso delle modalità che noi usiamo sul web ma anche nelle iniziative pubbliche c'è un acceso rapporto di confronto con le coproduttrici e i coproduttori del film e piano piano ci permettono anche di livellare gli aspetti più sporchi del documentario, del film, quindi nel senso se una cosa non è chiara nel premontaggio, perché noi mostriamo proprio la produzione che si evolve pezzo per pezzo e quindi tutti i loro riscontri e feedback ci aiutano anche poi a costruire il montaggio finale e quello che poi diventerà il film in sala. Quindi si tratta proprio di una collaborazione, come dicevi tu, non soltanto economica, cioè chi decide di partecipare al crowdfunding diventa veramente coproduttore. Sì, esatto, è messo nelle condizioni di poter dare il suo parere, chiaramente è un equilibrio tra le cose, nel senso che il ruolo della squadra che ci lavora e della regia non è completamente vanificato, ovviamente perché questo non è possibile, però noi creiamo lo spazio adeguato per fare in modo che ci possa essere un confronto molto intenso, diciamo. Ecco, una cosa su cui torneremo poi dopo perché è un'esperienza che avete già fatto con altri film, peraltro alcuni anche premiati e riconosciuti a livello internazionale, però tornerei proprio sull'argomento di The Harvest, The Harvest vuol dire il raccolto, come è nata l'idea di raccontare la storia di questi braccianti agricoli di origine indiana, i Sikh, che sono una comunità molto grande nell'agropontino? Esatto, sì, parliamo di circa 30.000 persone che abitano stabilmente nell'area da diversi anni, per cui siamo già anche di fronte alle seconde generazioni, voglio dire, e io penso che in generale il documentarismo significhi anche l'urgenza di raccontare delle storie, noi abbiamo sempre ragionato su il seguire questo tipo di urgenza, in questo caso, anche in questo caso è avvenuta così, non so dirti se più o se questa urgenza l'abbiamo sentita più o meno forte di altre, però posso sicuramente dirti che quando abbiamo iniziato a scoprire un po' quello che stava succedendo, poco più di un anno fa, ci siamo trovati davanti a una situazione molto preoccupante e non solo, era preoccupante non solamente per il grado di brutalità, che il livello di brutalità che abbiamo trovato, ma soprattutto perché questa brutalità era completamente nascosta, nel senso se tu non andavi a scavare un minimo, almeno all'epoca, adesso per fortuna sta emergendo, la situazione era assolutamente invisibile tutto questo. Certo, peraltro voi come dicevi tu, insomma è da un anno che avevate l'idea, cioè le riprese sono iniziate ad aprile, voi da un anno che ci state lavorando avevate deciso di raccontare questa storia e poi il caso ha voluto, che effettivamente proprio ad aprile i SIC dell'agropontino si siano ritrovati a Latina se non sbaglio, e hanno fatto questo grandissimo scioffero, proprio per ribellarsi alle condizioni di lavoro, direi un evento storico perché non si è mai visto, uno sciopero così imponente di braccianti agricoli, quindi insomma c'è stata questa concomitanza di cose. Sì, è stata una concomitanza, devo ammettere, assolutamente casuale, nel senso che comunque noi il calendario delle riprese l'avevamo pianificato da mesi e il terzo giorno di set, a inizio aprile, scopriamo appunto che ci sarebbe stata questa assemblea sindacale, che è quella che poi abbiamo messo nel primo teaser che abbiamo fatto uscire. Che stiamo vedendo infatti. E lì ci siamo resi conto che qualcosa stava succedendo di importante, per cui quell'assemblea è stato in qualche maniera il punto di partenza di una presa di coscienza che si sta tuttora sviluppando e rafforzando e che appunto ha portato allo sciopero di Latina, che sicuramente è stato molto importante e anche dal punto di vista simbolico, se vogliamo, ma in realtà in queste settimane stanno succedendo diverse cose, diversi momenti di questo tipo, che magari appunto sono più a macchia di leopardo, ma tutti sintomatici del fatto che qualcosa sta succedendo e la situazione si sta per fortuna evolvendo, per cui per noi sicuramente è molto importante che questa cosa stia accadendo in concomitanza con il nostro set, perché riusciamo a raccogliere e a fotografare anche un aspetto che non avevamo minimamente calcolato all'inizio dell'idea. Questa è forse infatti la chiave nuova, no? Sì, anche perché io credo che è quello che abbiamo sempre cercato di fare nei nostri film e documentari, noi abbiamo sempre scelto di andare molto in profondità e mettere a nudo delle situazioni problematiche e senza troppi veli, però abbiamo sempre anche cercato all'interno della narrazione di trovare o ipotizzare una via di uscita, nel senso non ci interessa fare documentari dove ci limitiamo semplicemente a mostrare la brutalità di certe situazioni, cerchiamo anche di dipingere in qualche maniera come questa situazione potenzialmente può finire, questo problema può evaporare in qualche maniera e questo l'abbiamo sempre fatto in passato e probabilmente in questo film quello che sta succedendo adesso rispetto a quello che dicevamo di questa nuova fase in sé aperta potrà essere il nostro scamotage per mostrare di nuovo una via di uscita. Certo, e voi chiaramente state raccontando insomma quelle che sono le condizioni del lavoro dei braccianti sick, cioè paga ovviamente sempre bassissima, ci sono altri aspetti diciamo di questo sfruttamento, insomma loro lavorano tante ore di fila e come in altre situazioni insomma spesso sono le sostanze stupefacenti un po' che girano anche per mantenere determinati ritmi. Esattamente, allora noi anzitutto ci siamo concentrati su quella storia per scelta nostra ma purtroppo non è né l'unica né a livello territoriale né a livello di comunità coinvolte. C'è sembrata quella più evidente e comunque quella dove ci siamo trovati ad avere anche delle relazioni umane con le persone che quindi ti permettono di raccontare la storia in profondità, però purtroppo si stanno registrando tanti e diversi casi in diverse zone d'Italia. Gli aspetti diciamo evidenti che sono tutti concatenati tra loro sono sicuramente quello che dicevi, cioè paga che si aggirano tra i 2 e i 4 Euro l'ora, quindi ben al di sotto degli standard patuiti da contratto nazionale e di conseguenza anche tutta una serie di perversioni che si vengono a generare non da ultima ed è il motivo che ci ha spinto a decidere di fare questo film un anno fa appunto il fatto che diverse associazioni hanno iniziato a rilevare casi di utilizzo di sostanze dopanti. Dico sostanze dopanti rispetto a come hai detto tu, non perché cambia la sostanza in sé ma perché è il tipo di utilizzo che è secondo me ancora più agghiacciante, nel senso che queste persone sono più o meno spinte a utilizzare diversi mix di sostanze per reggere i ritmi del lavoro. Nel momento in cui tu prendi una paga dalle 2 alle 4 Euro l'ora e sei una persona che o manda appunto parte del proprio stipendio alla famiglia in Panjab oppure la famiglia ce l'ha qui con sé, quindi come tutte le persone come noi insomma ha dei figli da mandare a scuola eccetera, sei obbligato a lavorare 16-17 ore al giorno senza pause, senza giornate di riposo e questo indiettabilmente puoi avere 25-30 anni o qualcosa di più ma non puoi farcelo, è un ritmo che non si può reggere e quindi è iniziato a svilupparsi questo fenomeno molto inquietante. Oltre a questo ci sono altri aspetti tra virgolette collaterali ma legati al problema e quindi si è iniziato anche a intravedere fenomeni di cotimo vero e proprio, vedere fenomeni di caporallato esplicito anche se riadattato in qualche maniera ai tempi oderni per cui il caporale oggi ti manda il messaggio su WhatsApp alle 5 di mattina per dirti che sei stato scelto per andare a lavorare in una determinata ditta in un'altra quindi le dinamiche non cambiano, anzi sono peggiorate semplicemente con strumenti diversi. La tecnologia, a parte che mi stai facendo pensare comunque che anche il fatto che le sostanze dopanti arrivino in questi luoghi per aiutare i lavoratori ovviamente si creerà anche un mercato sommerso anche per quanto riguarda quello, perché nell'illegalità si moltiplica poi anche su quel fronte suppongo. Sì, certamente la cosa genera tutta una serie di conseguenze, anche non da ultima il fatto che a prescindere dal motivo per cui la usi poi l'utilizzo genera anche dipendenza e quindi genera riverberi all'interno della comunità nel lungo periodo, cioè in un periodo molto più lungo di quello che si può pensare quindi è chiaro che le conseguenze sono tante, in più appunto per cultura e per tradizione le comunità SIC non tollerano assolutamente l'utilizzo di queste sostanze e quindi c'è anche un problema di isolamento dei lavoratori che ci cadono dentro in qualche maniera e detto ciò rimane il fatto che è un argomento molto delicato e che anche noi cercheremo di toccare con delicatezza per il semplice fatto tra le varie motivazioni che ci sono delle indagini in corso su questa cosa e per cui le informazioni che ci arrivano chiaramente sono centellinate e noi stessi dobbiamo utilizzarle con molta cautela Ecco, qual è la scelta stilistica che hai fatto per raccontare questa storia? Da dove sei partito nella sceneggiatura? In che modo hai deciso di raccontarlo stilisticamente? Sì, per noi diciamo che è una sfida che ci stiamo ponendo, poi vedremo se riusciremo a vincerla perché è ancora presto per dirlo e la nostra idea è stata quella di provare a fare un passo in avanti nel senso che quando ho iniziato a fare i primi sopralluoghi lo scorso anno mi sono subito accorto che se scendevo giù nell'agro con la modalità di ripresa e di format che abbiamo sempre usato quindi il reportage principalmente, era già tutto lì, scendevamo in una settimana, dieci giorni raccoglievamo tutto e avremmo avuto tutto il materiale adatto per realizzare un documentario sullo stile di quelli che abbiamo fatto in precedenza. Non ci bastava più, nel senso che per diverse ragioni noi intreceremo una parte di documentarismo classico, quindi anche con interviste, focus e flussi di informazione all'interno del film, ma l'innesteremo con altre due parti, una parte di finzione cinematografica diciamo, quindi abbiamo dei personaggi all'interno del film che sono personaggi reali, quindi in realtà raccontiamo attraverso la finzione la loro vita reale e c'è un protagonista maschile e un protagonista femminile in particolar modo, ma usiamo la finzione anche per ricostruire sulla base dei dossier e delle inchieste che abbiamo avuto la possibilità di visionare quello che succede nei campi, nel senso che era impensabile che noi andassimo sui veri campi dove ci sono questi fenomeni di sfruttamento, sia per un problema di incolumità nostra, perché ti assicuro che non è una cosa semplice e sia soprattutto per tutelare i lavoratori stessi, perché sarebbe un paradosso fare un film per svelare questo problema e poi mettere loro in una condizione di fragilità, per cui noi ricostruiremo anche tutte queste scene dinamiche dello sfruttamento, però ricostruite in luoghi più protetti. E poi oltre a questo innesteremo una parte che è più di cinema sperimentale, dove il suono, l'audio, la musica, il colore del girato entrerà in maniera prepotente nella ossatura della sceneggiatura e useremo quella parte soprattutto per toccare il tema del doping, per cui non è a tutti gli effetti un inserimento di musical, perché non è a tutti gli effetti quello, ma non è nemmeno troppo lontano, noi abbiamo fatto una approfondita ricerca musicologica su tutto quello che è l'impianto degli stili musicali del Punjabi e ci siamo soffermati in particolar modo sulla Bhangra, che è un tipo di genere musicale molto interessante e da quello abbiamo cercato di miscelare i nostri stili musicali che utilizziamo, perché abbiamo i nostri musicisti del gruppo, con gli stili, i colori e le sonorità di questo tipo di musica Punjabi, che non è l'unica. La trovo molto bella, nel senso che il contrasto tra le condizioni di vita e poi effettivamente come dici tu, i colori, le musiche del Punjabi, sono un contrasto incredibile, insomma abbiamo visto, i Sikh sono molto riconoscibili, hanno questi colori addosso, sono molto belli, questi turbanti, questi vestiti molto belli e anche la musica è particolarmente importante per loro, per cui credo che questo contrasto, così per come me l'hai raccontato, mi sembra che possa essere molto di effetto, perché c'è una distanza siderale tra quello che è questa popolazione e poi le condizioni in cui si trovano a vivere e l'ambiente in cui sono immerso che ci stavi raccontando. Sì, esattamente e poi diciamo che questo terzo aspetto della scelta stilistica che abbiamo fatto ci permette da un lato di toccare un tema molto delicato come il doping senza scivolare nella retorica, in qualche maniera, quindi cercheremo di dare un effetto più cinematografico a questo problema senza eluderlo, dall'altra parte invece è esattamente quello che dicevi tu adesso, cioè sfruttare l'opportunità per mostrare anche alcuni aspetti delle radici culturali di queste comunità, in particolar modo quello che è tutto il discorso legato più che alla musica alla sonorità, in qualche maniera, visto che abbiamo questa opportunità di svelare anche alcuni di questi aspetti perché non farlo in maniera un po' più cinematografica. Certo, ma anche perché conoscere insomma quali sono le origini e le tradizioni delle persone che stai raccontando in un altro contesto, credo sia quella famosa delicatezza che dicevi prima di entrare in una storia in punta di piedi cercando appunto di raccontare un po' tutto in quel territorio. Insomma sono iniziate le riprese, abbiamo detto insomma da poco, da aprile, però non è la prima volta come raccontavi prima che voi avete fatto documentari di denuncia con questo tipo di crowdfunding. Tomorrow's Land per esempio è stato, non so se è uno dei primi che avete prodotto con me. È stata la prima esperienza, il primo esperimento di produzione cinematografica all'epoca ovviamente con mezzi molto più scarsi di quelli che abbiamo oggi perché il nostro gruppo stava nascendo fondamentalmente, però è stata la prima esperienza di coproduzione popolare in crowdfunding per la sostenibilità di un documentario. Quell'esperienza andò molto bene sia in termini di raccolta fondi sul film ma anche successivamente poi in distribuzione e tra l'altro le due cose erano molto legate tra loro perché in qualche maniera tutto il riverbero che si era generato dalla campagna di crowdfunding poi generò anche un'aspettativa e questa aspettativa si diede forza al film in termini di diffusione, più che di distribuzione perché è proprio il passaparola digitale su cui noi basiamo molte delle nostre campagne, diciamo, per cui l'esperienza di Tomorrow's Land per noi è stata il fondamento non solo della consapevolezza dell'utilizzo creativo del crowdfunding in termini cinematografici, però contemporaneamente del fatto che fosse anche uno strumento molto importante per mantenere un totale grado di indipendenza nel modo in cui vai a raccontare le storie e poi anche successivamente una consapevolezza in termini di come reinventarsi dei metodi di distribuzione e di diffusione delle opere creative utilizzando il web 2.0 che ci ha portato poi tre anni fa a fondare invece Distribuzioni dal Basso che è la nostra distribuzione digitale. Ecco, anche qui nella distribuzione è digitale insomma, quindi chiunque, esattamente come chiunque può diventare produttore, chiunque può acquisire il film in un modo molto particolare, insomma, comunque attraverso il web non c'è un, se non sbaglio, un prezzo, no? No, esatto, diciamo che Distribuzioni dal Basso che appunto è un portale on demand, inizialmente era solo di documentari perché appunto anche noi eravamo documentaristi, siamo documentaristi, in realtà oggi si è aperto anche alla musica, all'editorio indipendente e a tutta un'altra serie di esperienze e si basa proprio sul tentativo di portare gli aspetti che noi riteniamo quelli importanti del crowdfunding anche in termini di accessibilità alle opere poi finite, per cui se il crowdfunding si basa principalmente sul meccanismo del dono, questo meccanismo del dono noi lo abbiamo trasportato anche nella distribuzione, per cui l'accessibilità alternativa alle opere e la però contemporaneamente una sostenibilità, perché questa è fondamentale, noi la basiamo su una volontarietà dell'azione, quindi non sei obbligato a pagare una cifra Y per accedere a quell'opera, andare a vederla al cinema o quant'altro, ma a tua coscienza secondo di quello che puoi fare, noi ovviamente consigliamo una cifra sul sito perché comunque abbiamo dei nostri parametri, ma la scelta finale spetta alla persona che decide di sostenerla, esattamente come funziona il crowdfunding e le ricompense del crowdfunding. E avete avuto risposta da questo punto di vista, nel senso che a proposito di sostenibilità è importante anche la sostenibilità economica, perché i costi di una troupe sono sempre alti, invece siete riusciti comunque ad avere, nonostante la volontarietà sul prendere, diciamo, assolutamente in linea. Sì, diciamo che noi siamo abbastanza convinti che questo sia, a prescindere dalle nostre piccole esperienze marginali, il futuro in cui si sta andando, nel senso, vuoi per il Web 2.0, vuoi per altre ragioni anche di evoluzione delle relazioni economiche tra le persone, questa è una delle strade che potrebbe accadere in futuro. noi possiamo semplicemente testimoniare il fatto che funziona, perché dopo tre anni e mezzo distribuzione al basso è assolutamente attiva, abbiamo raggiunto quasi 100 titoli di documentari in catalogo e soprattutto abbiamo aperto il catalogo anche a esperienze editoriali di altro genere e soprattutto ancora a settembre distribuzione al basso diventerà una rete europea, quindi a settembre il sito diventerà un sito multilingua e inizierà ad aggregare anche autori e creativi da altri paesi e tutto il catalogo sarà disponibile multilingua, quindi inizierà anche a invitare utenti del web da altri paesi. Meraviglia, insomma, l'Europa, a proposito di Europa, esatto, ci proviamo. Allora, ricordiamo The Harvest, le riprese sono cominciate, chi vuole diventare coproduttore di questo film documentario, dove può trovare il modo di partecipare? Sì, come dicevo, per noi la coproduzione in crowdfunding è un aspetto fondamentale, nel che senza quella il film non si realizza, per cui oltre a mettere le persone attraverso il web e attraverso le iniziative pubbliche in condizione di vedere in profondità la nostra idea, abbiamo ovviamente attivato tutti quegli strumenti digitali per fare in modo che chi decide di aiutarci può diventare coproduttore. fisicamente dove devo andare a cliccare, diciamo, proprio in termini. Si può trovare tutto sul sito del film che è www.theharvest.it e sulla scheda di produzione dal basso, che è appunto il portale di crowdfunding che usiamo anche noi, sempre cercando The Harvest. The Harvest, perfetto, così ci sono insomma, c'è anche poi tutte le racconte, insomma, di che cosa state facendo. Esatto, ci sono tutte le racconte, ci sono anche tutte le modalità per diventare coproduttori, perché ci sono diverse opzioni di donazione. Ottimo, grazie mille Andrea Paco Mariani per essere stato con noi e per averci raccontato insomma la lavorazione di questo importante documentario e grazie anche a voi che ci avete seguito da casa e tutto La Linea Torna alla Regia.